Questo sì che è uno di quei momenti, uno dei momenti della verità, perché dopo una lunghissima interminabile attesa siamo finalmente con Halo Infinite pronti a scoprire cosa si cela dietro a questo meraviglioso titolo. Allora, è probabilissimo, quasi scontato, che quando voi vedrete questo video l'avrò già recensito, quindi avrete già visto la recensione. Ma questo, giusto ricordarlo, è l'inizio del mio percorso di review, quindi pur vedendolo più tardi rispetto alla recensione sappiate che è avvenuto prima della recensione, quindi lo sto scoprendo in maniera completamente così, per la prima volta. Quindi partiamo e speriamo bene. Se potessi sapere come muovirai. Vivresti la tua vita diversamente. Il mio nome è Edriox. È la mia, è l'ultima faccia che riuscirai a vedere. Attenzione, 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 attenzione. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17. Protocolo accettato. Preccia rilevata. Preccia rilevata. Preccia rilevata. Ok, papà sta ascoltando, puoi dire ciao? Ciao! E fai vedere a papà quanto sei grande? Grande! Grande! Brava! E sai cantare? Nella vecchia fattoria! Ia ia! Che ne dici di mi manchi? Mi manchi! E ti voglio bene? Ti voglio bene, papà! Sì, brava! Riesci a dire non vedo l'ora di vederti? Vederti! Ok, ora di ciao! Sì! 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 Ce ne andiamo a casa! Oh, bentornato, Chief. Ho reindirizzato l'energia rimasta nella tua corazza. Vedo un problema alla matrice di calibrazione. Almeno credo sia quello. Ok, segui la luce. Guarda su. Prova a guardare giù. Prova a destra. E ora a sinistra. La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative. Ma pare ci sia un problema con i motori delle mani. Prova a muoverle. Tranquillo, sei rimasto là fuori per un po'. So ti aver visto qui in giro qualcosa con cui controllare la tua corazza. Ehi, stai calmo, ragazzone, non... Rapporto? Rapporto? Ma cosa... C'è qualcosa che devi vedere, Chief. Quanto è grosso! Abbiamo perso... Per noi non c'è più niente qui. Non so nemmeno dove sia qui. No, 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 no. Non loro! Non di nuovo! Dobbiamo scappare! Dammi un'arma. Un'arma? Questo è tutto quello che ho? Mi basta. Chief, cosa vuoi fare? Improvviso. Ehi, chiudi. Le batterie principali sono a terra. Siamo bloccati. Hai un solo proiettile contro un intero esercito. Che puoi fare da solo? Ve l'ho detto. Basta. Sì, capisco. No, 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 no. Stanno attivando un raggio di stasi. Non possiamo fuggire! Penso alle batterie. Io prendo tempo. Incredibile! Ce l'hai fatta! Allora, la scaccia del musoetubio è attuale ai punti di navigazione. Eeeh, vabbè. E ora? Con quel raggio di stasi attivo siamo bloccati. Lo disattiviamo. Raggio di stasi, armi, tutto quanto. Ma... Come tornerai indietro? Mi inventerò qualcosa. Comunque... Trasporto nemico bloccato dal raggio di stasi. Scansioni iniziali inconcludenti. Schierare la squadra nell'hangar 1. Dico, comunque, ha le vibrazioni... Dei giochi vecchi a scuola, eh. Cioè, inizio bello cinematografico... Beh, i ritmi ti fa salire la voglia di... Entrare in gioco, no? Eeeh, non so spiegarvi concretamente come, ma ha delle caratteristiche tipiche dei giochi di... Cioè, mi ha ricordato Dead Space, mi ha ricordato Bioshock, tutta una serie di giochi impostati in un certo modo dall'inizio. Adesso vediamo se la qualità sarà la stessa, speriamo. Il rapino è un gancio lanciabile che fa presa sugli oggetti. Va bene. Posso andare un po' dove mi pare, ok. Ma non lo posso usare... Fluidissimo. L'esperienza di shooting è rifinita... Ma in una maniera... Impressionante. Chiaramente è più fluido anche del multi. C'era già questa, vuoto. Vuoto cosmico in questo momento. Ci avevi un conto in sospesa. Poteva accusare questo, mamma. Lo so, ci siamo presentati. Cazzo di munizioni... Cazzo di munizioni... Iniziamo gli esegliati. Umano! Possibile. I tuoi occhi ti ingannano, fratello. No! Stupido cosa. Non male Non male Stattore di energia 256 Prepararsi allo schieramento Torre del gestore 3, 3, 4, danneggiata Ritirarsi Perché stiamo perdendo? Perché? Fermaci No Proordinate roccaforte 45 ricevute Schieramento immediato La mia passione è la pistola d'Avi E' tipo l'arma più utile di sempre Però mi ha Sempre suscitato grande Grande fascino Non so per quale motivo Mi è sempre piaciuto un sacco Non posso farne a meno Navette da sbarco Una forza d'invasione Non abbiamo nessuna possibilità Gli esiliati hanno già vinto Potremmo essere gli unici due umani sopravvissuti C'è ancora speranza Allora Ricordo logaudio Unsc Tutti i logaudio Contengono un file audio Che può essere ripetuto Nel data base Prima mix Per acquisire Il log audio Delle 1.2x Per acquisire Il numero 2 La sciaruppa del Capitano Lazio è partita Bene Ora noi altri Riunisciti alla tua squadra E raggiungi la capsula più vicina Marina Muoversi Sì signore Squadra d'assalto Taurus Appuntamento alla piattaforma 18 Scendiamo sull'anello Ricevuto Ci muoviamo Agli altri Spartan Se siete ancora sull'Infinity Disimpegnatevi Raggiungete le sciaruppe Winfall 1 Abbiamo un sacco di personale Diretto verso lo Z Halo Cosa vedi là fuori? Mezzi e truppe degli esiliati ovunque A terra e in aria Sarà un atterraggio difficile L'avete sentita? State attenti E ci rivedremo sull'anello Siamo con te Facciamola finita Allora Utile sta cosa Devo dire Cosa è botta Sì Alla grande Sì Ehm Meta voice Si nasconde Ha paura Maledetti Ok 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 Il feeling è sempre quello tipico Degli Halo Anzi Quello tipico ma Decisamente rifinito Ha lanciato qualcosa Fermatelo Non può uccidere Mi sto in faccia Se si è salvato Perché Questa battaglia Non finirà Ale Ma io che mi ero preso La mia Pistola Deghi Che fine ha fatto Questa Un momento si avvicina Presto Gli esiliati avranno la vittoria Nelle loro mani Degli esiliati avranno la vittoria Bruceranno tutti quanti E la loro ardente Sarà solo un delicato La vittoria è nell'aria Esiliati Sant'Agratios Salve Abbiamo un nuovo problema Noi Noi dobbiamo andarcene da qui Ci sto lavorando In fretta Questo pelican è quasi imbarcato E ancora non c'è energia Non lasciare Che mi prendano Che grosso Che grosso Che grosso Che botta Vabbè Doveva succedere Prima o poi Trovatevi un vero avversario Picchiamo a questo Devo dire Noi Noi dobbiamo andarcene da qui Ci sto lavorando In fretta Questo pelican è quasi imbarcato E ancora non c'è energia No Lasciare Che mi prendano Masticate le ossa Si diceva Morto? Si Però E' buono Buono Fermo Che si consuma tutto Ehm Ah Avere È chiuso Bisogna Ancherarlo Ok E tu puoi farlo No Nuovo piano Fai saltare Vuoi distruggere questa nave Con noi dentro Ma in questo modo Io morirò I tubi di raffreddamento Portano i motori Quindi Alziamo la temperatura Sono sottotiro Si sta scaldando Calma calma Una morte è sufficiente Non è sicuro No No Sperma Ti faccio sparare Sta funzionando Non succede niente Non ho finito Spergati Li vedo Brut Quei cosetti Stanno aspettando Non lasciare che mi prendano Per favore Non ci vedi Di Che Corpo Vedi Musi Spogrui Com'è In Il Spergiva D All'è? Pronti. Ah, ok, ok. Accendi quei motori, Chief. Forse sopravviveremo. Dov'è? Via via! Vieni via. Più o meno. Mi è torto. Non ho Spartan. No. Direi molto meglio. E così Master Chief è tornato tra noi. Credevamo che fossi morto. Ormai scomparso nel vuoto. Eppure ecco di qui. Gli umani ti chiamano salvatore. Covenant. Demoni. Gli esiliati. Preda. Distruggi questa nave, se proprio. Non importa. Gli esiliati non ti daranno scampo. Ci seguiranno sempre, ovunque proverai a fuggire. E' una promessa o una minaccia? Lo conosci? No. Ma lui conosce te. Sa tutto sotto conto. Sbrigati, torna qui. Non so quanto ancora potrà reggere questa nave. Un'arma. Un'arma. Esatto. Un'arma. Esatto. Un'arma. Esatto. Un'arma. Ok. È una macchina morte, però... Quarantanove per cento. Credi che la distruzione che hai causato sia solo il cavo al ventone 21? Resistere impavidi. Innalzamento della temperatura interna. Propulsori a rischio critico. Ordini invariati per stare a proprio voto. Ma parco tutto. Sono vivo? L'integrità strutturale è al 27%. Che faccio ad essere vivo? Mi sono perso. Sono calatissimo. Era previsto? Diamo di no. L'integrità strutturale è al 56%. Noi prevarremo. E non ci arrivo. Amico del noi prevarremo. E al 37%. Solo i più forti resisteranno alle armi fratelli. Faccio prima a far così eh. Ok. Non era previsto che io cadessi là. E quindi... E' finita. E' finita l'intragedia. Prostori a rischio critico. Ordini invariati per stare a proprio voto. L'integrità strutturale è al 27%. Per acento. Cos'è stato? Non è stato... Bello. Anche gli esiliati sembrano terrorizzati. Non c'è più tempo. Batterie? Si stanno caricando. Lentamente. Non so. Deve essere vicino. Troppo. L'equipaggio è al 37%. Solo i più forti resisteranno alle armi fratelli. Ti è pazzi sta parte. Via, 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 via. Non c'è tempo. Non c'è tempo, non c'è tempo. Novanta secondi alla carica completa. Spero che questo posto resista così tanto. Dai, sbrigati! Ponte con roveggio. Ripeto intervento di controllo da secondo. Mi adoro. No, 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 no! No, 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 no! Oh, andiamo! No, no, no! No, no! No, no, no! No! No, no, no! Chief, ci sei ancora? Ci sono. Ok, dammi un secondo. Sto arrivando. Bentornato, ragazzone. Andiamo via da qui. Un inizio bello peperino, devo dire. Che miseria. Trova l'Infinity. UNSC Infinity, classe nave ammiraglia superiore, equipaggio 7150. Assente. Scalsione perimetro. 1986 tag UNSC, riservati. Stato. Deceduti. Master Chief è vivo. Etriot ci aveva assicurato che fosse morto. Non sei furioso? No, mi sento rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui minaccia tutto. È in dubbio la mia guida. La visione di Atriox. Atriox è morto. È colpa sua se siamo bloccati qui. Gli esiliati non si inchineranno mai più a nessuno. No. Non hai Covenal. Non hai profeti. E neppure a lei. Attiveremo questo anello. Ti prego. E allora potrai vendicarti. Maestro T'Lama. Segui lo Spartan. A distanza. Voglio sapere tutto quello che fa. Richiesta connessione alla corazza. Accetto. Trovato messaggio critato. Legge. Decryptazione. Decryptazione fallita. Origine messaggio. Triangolazione in corso. Triangolazione in corso. È la fine, è vero Chief? Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato. Segnale localizzato. Rotta in corso. Non c'è niente da. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Vai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. Tutti. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta ti eroici. No. Facciamo il nostro dovere. A tutti i costi. Non posso essere... Ingresso dell'atmosfera. Pilota automatico disinserito tra... È una nuova missione. Quattro. Cosa c'è? Cosa c'è là giù? Tre. Un'arma. Due. Un'arma? Uno. Di quanti armi hai bisogno? Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando. Tutti quanti! In arrivo. Tutte le direzioni. Non è sicuro. Ripiegare. Ok, ok. Allora. Signori. Io per adesso chiaramente mi fermo qua. Questo rimarrà uno scopriamo a sé stante. Perché per ovvi motivi io dovrò andare avanti. E vedere il tutto in tempi relativamente brevi. Ripeto. Quando voi vedrete questo video salvo colpi di scena. Avrete già visto la recensione. Per cui saprete già cosa ne penso. Che tipo di esperienza ho vissuto. Però ci tenevo comunque a condividere con voi questa prima fase. Questo primo impatto col gioco. Perché sono veramente positivamente colpito. Non mi aspettavo niente di diverso. Onestamente. Se non un more of the same strutturalmente. Ma ottimizzato. Migliorato in tutto. Dinamiche di gameplay. Comparto visivo. Regia. Ed è quello che ho trovato. Per cui per adesso sono soddisfattissimo. Speriamo che io possa dirlo anche alla fine. Ma questo voi appunto. Già lo saprete. Per cui ragazzi. Un abbraccio. E noi ci vediamo alla prossima.